Un convegno di respiro nazionale celebrerà a Teramo i primi 90 anni della Società Psicoanalitica Italiana. La scelta del luogo per ricordare questo importante avvenimento scientifico non è stata casuale. La SPI, infatti, nacque proprio a Teramo, fondata il 7 giugno del 1925 da un gruppo di medici e psichiatri radunati intorno a Marco Levi Bianchini, allora direttore del manicomio teramano. La più importante struttura psichiatrica dell'Italia centro-meridionale di quell'epoca. Uno dei più grandi manicomi, ospedali psichiatrici, del centro-sud, con una storia sicuramente importante che speriamo si possa concludere con una ristrutturazione e una destinazione d'uso adeguata di questo enorme complesso che si sta deteriorando giorno dopo giorno. L'appuntamento con il convegno, come si inserisce con la città di Teramo? Io credo che sia un dovuto riconoscimento alla città di Teramo perché in realtà la società è nata a Teramo e finalmente era già stata riconosciuta dopo il convegno del 1995 avvenuta a Teramo, quindi da allora Teramo viene considerata la sede della nascita della società italiana di psicoanalisi. Ma questa celebrazione dei 90 anni ha una dimensione ancora globale perché la città di Teramo gira in tutto il web, in tutto il mondo perché le varie società psicoanalitiche e la società psicoanalitica internazionale stanno dando risalto a questo evento. Quindi è un grande onore per Teramo ma è un giusto riconoscimento per Teramo. La psicoanalisi è nata grazie al lavoro di Sigmund Freud, in Italia è stata fondata la società psicoanalitica italiana il 7 giugno del 1925 a Teramo in Abruzzo, grazie al lavoro del professor Marco Levi Bianchini che sebbene non fosse uno psicoanalista, perché il primo psicoanalista italiano è stato Edoardo Weiss, un medico triestino, insieme a Weiss Levi Bianchini chiese a Freud se poteva fondare la società psicoanalitica italiana e quindi quest'anno ricorrono i 90 anni dalla fondazione. Grazie a tutti.